Il compito di una squadra che deve vincere. La rete ha dato loro coraggio, sicurezza, però sono stati bravi a tenere la concentrazione per tutti i 90 minuti. Non ci resta più molto tempo. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. È stato un onore, come sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.